Qui a Pizza Expo Salerno 2014 siamo nella regione, nello stand della regione Lombardia con i ragazzi giovanissimi, dal produttore, dal produttore Rita al conservatore, cioè al creatore della pizza Dov'è? Sì, è giovanissimo 26 e 25, lui 6 o le 3, 16 Mi scopriamo da vedere la cosa E qual è la caratteristica della pizza? Allora, la caratteristica è il nostro impasto, che è un impasto di polenta È fatto con la farina della polenta slaragna Utiliziamo il lievito madre, lo potete vedere qui E i prodotti tipici della nostra valle, funghi finferli, raccolti direttamente nei nostri boschi Esattamente quelli Il cacciatore è uno strano di cervo, che è quella salsiccia qua, quella lì è la polenta E qua potete vedere la confettura, che viene abbinata alla formagella, che viene posta sulla pizza A fine con la È un prodotto molto digeribile, poiché la farina di mais è molto leggera, incorporata in un lievito madre È una prima maturazione, viene prodotto veramente molto digeribile La accompagniamo in una birra di un caseificio italiano È un produttore di Torre del Romere È un birrificio nazionale È una birra millesimata Viene prodotta con lo stesso trattamento del vino bianco È una birra di qualità, molto buona È una E È una E Viene servita con un grosso cappello E viene molto abbinata ai sapori tipici della nostra piscina, diciamo Una birra giusta per questo tipo di pizza E a Milano si chiede la pizza molto Sì Chiedono la pizza, la vogliono un pochino più croccantina Però io in questo momento sto incorporando la vera SETIGI napoletana Senza olio Ha altissima idratazione Viene cotta a 450 gradi E sta prendendo piede perché essendo molto idratata è molto leggera Grazie a voi e alla prossima Grazie Grazie Grazie